Affano, la tua voce conta. Con il bilancio partecipato, costruiamo insieme il futuro della città. Esprimi la tua opinione, presenta il tuo progetto e vota le idee migliori. Facciamo la differenza, insieme. Visita il sito www.bilanciopartecipato.it e scopri come dire la tua. Bilancio partecipato. Adesso scegli tu. Grazie a tutti.